Perché un corso di digital marketing per gli architetti? Perché oggi è fondamentale per ogni professionista imparare a comunicare la propria professione e valorizzarla. Per questo motivo per gli architetti è fondamentale comunicare il proprio lavoro, dare valore alla propria professione oltre che ai propri progetti. Gli strumenti digital che si possono utilizzare nell'ambito dell'architettura sono molteplici dal sito internet all'email marketing piuttosto che ai social network. I social network sicuramente rappresentano oggi un grande scoglio per gli architetti perché fanno fatica comunque a comunicare quello che fanno e quella che è la propria professione. Quindi conoscere le principali piattaforme di social media marketing come Facebook, Instagram piuttosto che Pinterest e imparare ad utilizzarle in modo consapevole, in modo strategico, permette agli architetti di valorizzare il proprio lavoro oltre che di incrementare quello che è il passaparola offline in un ambito che invece è totalmente online. Grazie per la visione!